Mi piace andare in piscina. E a te? Quando rivolgo questa domanda a qualcuno posso ottenere due tipi di risposte. La prima, la persona è d'accordo con me, o la seconda, la persona è in disaccordo. La stessa cosa succede quando dico a me non piace lavare i piatti. E a te? Anche in questo caso possiamo avere accordo oppure la persona può esprimere disaccordo. Siete curiosi di sapere che cosa dire quando dovete esprimere la vostra opinione? La lezione di oggi vi aiuterà a diventare più fluenti in italiano permettendovi di esprimere l'accordo e il disaccordo in modo scorrevole. Vi ricordo che sul verbo piacere ho già pubblicato due video. Vi consiglio la loro visione. Troverete il link di entrambe le lezioni nella descrizione qui sotto. Benvenuti a Italiano con Eli. Sono Elisabetta e da dieci anni mi occupo di formazione linguistica. Vediamo che cosa possiamo dire quando qualcuno ci chiede se ci piace qualcosa. Ad esempio Ti piace l'opera? Sì, moltissimo. E a te? Anche a me. Oppure Ti piace l'opera? Sì, moltissimo. E a te? A me invece no. Altro esempio. Ti piace il calcio? No affatto. E a te? Neanche a me. Oppure Ti piace il calcio? No affatto. E a te? A me invece sì. Ai miei studenti di solito preparo uno schemino riassuntivo alla lavagna. Di solito dopo questo disegno non commettono più errori. Spero possa servire anche a voi. Se c'è accordo e ad entrambi piace qualcosa, allora diremo anche a me. Se invece al mio interlocutore piace qualcosa ma a me invece no, dovremmo dire a me invece no. In una situazione in cui ad entrambi non piace qualcosa, dovremmo dire neanche a me. E invece se al mio interlocutore non piace qualcosa ma a me invece sì, dovremmo dire a me invece sì. Vi dirò ora tre cose che mi piacciono e tre cose che non mi piacciono e vi chiedo di esprimere il vostro accordo o disaccordo nei commenti. Numero uno mi piace il caldo. Numero due non mi piacciono le cozze. Numero tre mi piacciono i capelli lunghi. Numero quattro mi piace andare in palestra. Numero cinque non mi piacciono le partite di calcio. E per finire non mi piace correre. Da oggi in poi sarete molto più disinvolti nelle vostre conversazioni con amici o parenti italiani. Se volete potete scrivere nei commenti le cose che piacciono a voi. Sarò lieta di dirvi se sono d'accordo o meno. Se avete voglia di continuare a praticare il vostro italiano qui troverete altre due lezioni. E ricordatevi anche di contattarmi tramite le reti sociali ovvero i social network. Spero che la lezione vi sia piaciuta. A presto!